da oltre 40 anni di esperienza l'adesa ambulatorio odontoiatrico perché mi sanguinano le gengive più della metà degli italiani soffre di questa patologia i principali sintomi sono sanguinamento gengivale alitosi mobilità dentale e sensibilità cosa aspetti prenota la tua visita specialistica l'adesa è a sassuolo la nostra professionalità per il tuo sorriso nel tempo camarta summer festival venerdì 19 luglio rimander goia official party la discoteca mito di sassuolo magiche atmosfere disco history vai andrea sarti corravino dj's cena spettacolo bordo piscina vai duo italiano live party disco 80 90 2000 media partner broletto caffè american bar sassuolo radio stella crepa club venerdì 19 luglio a camarta rivive il goia camarta risto music via regina pacis 116 sassuolo buonasera ben ritrovati dal tg di sassuolo oggi prosegue il cammino del sassolese luca farina e dei suoi compagni lorenzo basile lorenzo ballarin e leonardo pomè nel mongol rally i ragazzi sono partiti a bordo del maggiolino volkswagen messico dell'82 dopo aver attraversato lungheria e dopo aver trovato una lunga coda alla frontiera ieri il gruppo ha attraversato il confine serbo e ha raggiunto la capitale belgrado il percorso parte da praga e si estende per oltre 16 mila chilometri fino al kazakhistan oltre alla pagina chiocciola pls fi x trattino basso racing anche il nostro quotidiano documenterà costantemente il loro viaggio sarà inaugurata questo giovedì alle 20 presso la galleria d'arte jacopo cavedoni la mostra collettiva d'estate a cura degli associati del gruppo l'esposizione sarà visitabile fino a sabato 27 luglio martedì mercoledì e venerdì dalle 9 e 30 alle 11 e 30 sabato dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e dalle 17 alle 19 in occasione dei giovedì sotto le stelle invece la galleria sarà aperta straordinariamente tutti i giovedì del mese dalle 20 alle 23 ed ora passiamo allo sport nella giornata di ieri il sindaco matteo mesini il vice sindaco e assessore con delle gallo sport serena lenzotti hanno incontrato le quattro formazioni giovanili di volley sassuolo reduci da ottime prestazioni in campo provinciale regionale e nazionale in particolare sono stati ricevuti ragazzi dell'under 16 maschile csi campioni provinciali e regionali e freschi vice campioni nazionali le ragazze dell'under 15 femminile csi e ragazzi dell'under 14 maschile fipab campionesse e campioni provinciali infine è ricevuto anche l'under 14 maschile csi vittorioso sia in campo provinciale che regionale si disputerà sabato 3 agosto alle 17 presso il centro sportivo silvio e luigi berlusconi monzello la gara amichevole tra monza e sassuolo si tratta dell'ultimo test match prima della sfida di coppa italia del 9 agosto in casa contro il cittadella sarà anche una sfida tra due campioni del mondo 2006 da una parte infatti sassolesi allenati da fabio grosso dall'altra il monza allenato da alessandro nesta la partita sarà trasmessa in esclusiva su sport italia a partire dallo scorso venerdì e per tutto il weekend si sono disputati campionati italiani assoluti di tennis wheelchair allo sporting club sassuolo a trionfare nella categoria singole stato il 31enne di tennis club terranova luca arca che ha battuto il suo compagno di squadra nella categoria doppio silvio culea scopriamo di più nel nostro servizio luca una vittoria che va bene nelle dimensioni abbastanza larga ma è anche una vittoria di una manifestazione che sassuolo ha voluto fortemente e nella quale tu hai dato tutto te stesso sì io ho cercato di dare il massimo soprattutto perché è un qualcosa di allenante per me giocare confrontarmi sempre con con i migliori giocatori d'italia mi è dispiaciuto il fatto che quest'anno siamo stati in pochi partecipanti per problemi di cui io non voglio neanche saperne perché comunque io vado avanti verso i miei obiettivi per me era soltanto una tappa di inizio visto che comunque domani dovrebbe esserci l'ufficialità della partecipazione ai giochi di Parigi niente da dire il circolo è stato accogliente ospitale è stato bellissima tutta la settimana siete stati tutti quanti una grande famiglia e quindi tutto questo fa soltanto bene a me a tutto il movimento e a tutta l'organizzazione ecco hai anticipato un attimo la risposta alla mia seconda domanda c'è qualcosa che ti ha portato con tappe di avvicinamento ad un sogno che covavi che che cullavi e che può essere realizzato domani c'è l'ufficializzazione hai detto ma Parigi è qui vicino Parigi sarà tra un mese e mezzo è stato un anno abbastanza pesante perché comunque venivo fuori da un brutto infortunio poi una non bellissima vicenda familiare personale e quindi quest'anno è stato un anno durissimo sotto tutti quei punti di vista probabilmente è stato però tutto quello che mi ha dato qualcosa in più per andare avanti questa tappa è stata fondamentale perché comunque è come se avessi concluso il ciclo di quest'anno vincendo i campionati italiani e avendo domani molto probabilmente quest'ufficialità quindi non posso che essere felice di tutto questo. Ale è una gratificazione tra le tante gratificazioni che lo sporting ha questo tipo di torneo che ormai è diventato punto di riferimento anche per la federazione certo diciamo che è stata veramente la ciliegina sulla torta di un'attività partita quattro anni fa questo campionato italiano che è il torneo più importante della categoria ha avuto un livello altissimo vinto da Luca Arca che speriamo possa entrare alle Paralimpiadi di Parigi quindi siamo molto contenti perché comunque suggella tutta la nostra attività di inclusione di questo progetto tra le gratificazioni e anche la promessa che il prossimo anno si terranno ancora qui i campionati Certo abbiamo avuto un rapporto costante con la federazione che ci ha supportato in questa organizzazione e abbiamo già messo davanti i lavori per riprogrammare qui questo campionato che è di gran lunga un'esperienza fantastica per tutti noi e possiamo dire quasi con certezza che anche il prossimo anno si svolgeranno qui i campionati italiani wheelchair Roberta una presenza la tua quella di rappresentare intanto la federazione e di gratificare il circolo che ha organizzato in maniera egregia il campionato nazionale Sì era doveroso per me essere qua in questi giorni perché è un circolo come punto di riferimento anche a livello nazionale non solamente a livello regionale riesce ad unire sia l'aspetto di inclusione come abbiamo visto oggi ma anche a livello agonistico di tantissimi ragazzini di persone più adulte e quindi porta il classico benessere come noi stiamo cercando come federazione a livello nazionale ad arrivare al benessere sia sociale ma anche al benessere personale sembra che lo tennis allunghi la vita riesca a far diventare dei cittadini migliori quindi noi vogliamo entrare sempre di più nelle scuole essere sempre presente nei vari settori della società e quindi ecco come vogliamo che il wheelchair diventi anche una nostra importante fetta all'interno della nostra bellissima federazione che sta avendo dei bellissimi successi con i nostri atleti ma se riusciamo quest'anno a portare anche un atleta wheelchair come speriamo domani di ricevere questa bella notizia è il primo passo per continuare un grosso cammino ricordiamo che abbiamo fatto quota 503 nei tesserati abbiamo più di 88 ragazzini under 18 come giocatori proprio wheelchair quindi stiamo facendo un grande lavoro proprio di inclusione e speriamo di andare avanti così in futuro dal Tg di Sassuolo oggi è tutto vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata